Prima di gennaio tutto fuori, per la centesima, per la giugna e lenta, c'erranno sì, quasi i centri superi, che la fortuna che vanno sospesi dalle ponte volgerà in sonne e frode, sì che la classe migliorerà in più lenta, se vero frutto scherrerà più o meno. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.